Ciao YouReporters! Oggi voglio parlarvi di un servizio che ascolto e supporto, a cui possiamo accedere in modo facile, gratuito e completamente anonimo su YouReport on the move. Si chiama Here4You e ci permette di accedere in qualsiasi momento e chiedere aiuto a persone preparate, pronte ad ascoltarci ed aiutarci, semplicemente inviando un messaggio su Messenger. A chi non è mai capitato di passare i momenti di difficoltà, sconforto o preoccupazione? Se ci pensate bene, siamo riusciti a stare meglio probabilmente quando abbiamo chiesto aiuto a qualcuno di cui ci fidiamo. E chiedere aiuto è già un grande passo in avanti. Sappiamo che nel nostro viaggio spesso abbiamo avuto momenti molto difficili, persone che ci hanno fatto del male a noi e persone a cui vogliamo bene. Sappiamo pure che non è facile cambiare vita e trovarsi in un contesto totalmente nuovo. E che tutto questo a volte può farci perdere il controllo delle nostre emozioni e pensieri. In questi momenti ricordiamoci che va sempre bene dire, ho bisogno di aiuto, ho bisogno di non sentirmi solo ad affrontare la vita, perché nessuno di noi può affrontare tutti i suoi problemi da solo. E ci sono tante persone disponibili ad aiutarci e farvi ritrovare le risorse che in passato ci hanno aiutato a superare i momenti più difficili della nostra vita. Here for you serve proprio per questo, uno spazio dove parlare dei nostri problemi, sentirci ascoltati e al sicuro. E' anonimo, quindi non dovrai dire nessuno dei tuoi dati personali. Ogni racconto, esperienza e sentimento è rispericato, perché non c'è niente il giusto o il sbagliato quando parliamo di quello che sentiamo. Per accedere a Here for you è super semplice. Devi solo inviare un messaggio su Messenger e qualcuno ti risponderà il prima possibile, per poi parlare al telefono. Non devi fare nient'altro. E se non parli bene l'italiano, non preoccuparti. Ci sono dei mediatori culturali che ti aiuteranno a parlare nella tua lingua. Here for you è qui per aiutarci ad affrontare la vita senza sentirci mai soli o sole.